attivo nel cinema e nella televisione. Nel 2004 prende parte al suo film di maggiore importanza quando viene scelto da Mel Gibson per interpretare Pietro Apostolo in La Passione di Cristo. Nel 2007 prende parte alla serie TV La strana coppia con Luca e Paolo. Successivamente recita in altri lungometraggi, tra i quali Ce n'è per tutti di Luciano Melchion.